Ciao, questo era il secondo e l'ultimo gioco e due gioco in M49, giocato per provare a decidere un comune proprio per questi bordi. Ho postato anche il primo gioco, è sempre Miyamoto Naoki versus Gosegain, ma questa volta Gosegain è nero e Miyamoto Naoki è bianco. Nel primo gioco Miyamoto Naoki è nero e Gosegain è bianco. E qui il gioco finisce.